Consolini, gli sviluppatori di Eevee Metal Machine hanno apprezzato tantissimo il video che abbiamo fatto e il supporto che ci avete dato in quel video Quindi ci hanno chiesto di portarne uno nuovo E noi siamo prontissimi a spaccare tutto! E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E sono sempre che se ci chiamo Eevee Metal Machine E torniamo in questo gioco che è piaciuto tanto a noi e anche a voi Perché ho notato nei commenti che avete proprio apprezzato il fatto che per una volta io e Steph ci siamo messi a collaborare e abbiamo stravinto su tutti quanti Per una volta che non mi è trattato male Esatto, e ovviamente ci tengo a dire che anche questo è un video sponsorizzato Esattamente, gli sviluppatori del gioco ci hanno chiesto di portare un secondo video A quanto pare si sono anche proprio guardati il primo dato che ci hanno fatto i complimenti su come giocavamo E per questo secondo video ci hanno dato a disposizione 5 codici da utilizzare in gioco per ricevere diverse cose carine Quindi lo metteremo come primo commento su YouTube Esatto E 5 più veloci a riscattare il codice Si riscatta su Steam ragazzi Si beccano il codice con tutte le cose che ci sono dentro Quindi buona fortuna per chi riuscirà a prendere 5 codici È il più veloce! Adesso partiamo e proviamo delle nuove macchine Perché vogliamo vincere di nuovo Ma ci complichiamo un po' la vita provando nuove macchinine Certo, certo, ci sta, ci sta Conosciamo ma non troppo Ed eccoci qui Siamo prontissimi a partire E io ho full metal judge Ciao Steph Ciao Fede Di nuovo al mostro E mi piace Io non c'è Le piace stare a tentare Va bene, va bene Troppo bello Allora, allora, allora Teoricamente dovrei correre più veloce rispetto a quello che avevo la scorsa volta Ok Però non lo so Non lo so E mi raccomando di nuovo l'hashtag Partenza perfetta Andiamo Buona Buona Buona, 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 buona Preso Preso, 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 preso Fedevi difendermi Sono dietro di te, non ti preoccupare Ok, ok, ok Vado, vado, vado Tutto a zigozago, tutto a zigozago Sta subito schivando un sacco di spell Attenzione Sgomata Accelero Dove sei finito? Ecco ti Non vado così veloce con questa macchinina Mi hanno già spinto in una zona E ho perso la macchina Ok, 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 ok Eh, vabbè, capito Non mi rompere le scatole Dai, concentrati su Che mi sto già alterando tantissimo Guarda quanto è basso Ok, devo correre un altro vicino a me che è bassissimo Se non muore Sai quanto è difficile Colpire Ok Ok, ok, ok La presa toms Andiamo, andiamo, andiamo Cerchiamo di difenderlo Cerchiamo di difenderlo Pum, 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 pum Mancati tutti e quattro i colpi Davvero, Steph? Davvero? Ma no, Steph Dai, non mi puoi deludere Giocare in questo modo oggi Allora, concentrato Dai, 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 dai Quanti difficile Pum Andata, andata Ok, allora Sono soddisfatta a metà Perché non l'ho portata io Vabbè, tu hai cambiato macchina Quindi ti devi un attimo Eeeh, ma poi non volevo prendere questa Mi sono confuso con i nomi Però dai, in qualche modo Ci arrangiamo E siamo comunque I tuoi fail ormai Sono clamorosi In qualsiasi gioco Scusate Grazie, grazie, grazie Comunque 1-0 E Fer è stata brava a curare Quindi partiamo subito bene Signori Si appresta la seconda partenza Perfetta Uh, ok Che la mia è stata abbastanza buona Ecco, io sono lenta Ok, l'ho presa L'ho presa L'ho presa L'ho presa L'ho presa Scappo, scappo, scappo Mi stanno già sparando tantissimo È ovvio, ovvio Schiva tutto, Steph Oh, due volte su due Comunque sono stato il più veloce Che è una cosa importantissima In questo gioco Quindi almeno di quello Sono super soddisfatto Ok, eccomi Però sai Non mi piace molto la W Sinceramente pensavo Perché mi dà uno sprint Verso avanti Ok E pensavo che me lo desse Un po' più importante Invece Nito Oh mamma mia Ce le ho tutti addosso E mi stanno facendo malissimo È vero, penso io Eh, sto cercando di tenerti Il più possibile Lo so, ti stanno puntando malamente Certo, certo Perché hanno capito Quanto curi bene Ma non ci ferma nessuno qua Ci ferma niente Non ci ferma nessuno Siamo i re di questo gioco Siamo i re di questo gioco È da gelata Allora Io mi vanto quanto voglio Perché siamo riusciti ad andare dritti Fino alla fine Quindi mi vanto adesso Ma smettila Uffa Non mi fa neanche vanta Guarda com'è Però è bellina sta macchina Sì, sì Non è carina Ma secondo me Se ti abitui Non è neanche così male Perché comunque Quando riesci a prenderla Se mi tieni bene i danni Io non ti stavo curando troppo Quella che uso nel prossimo Game of Fire Secondo me Ok Forse è ancora meglio Di quella che ho usato Nell'episodio 1 Secondo me È il top del top Concentrato Yes Buono anch'io Buono anch'io Vado a raggio Vado a raggio Amici miei Sono arrivato 10 secondi prima Ciao Non l'avete neanche visto arrivare Ciao Ma dimmi te Adesso mi uccidono Ok allora Ci sono io Tu non puoi morire Finché ci sono io Tu non puoi morire A zigo zago qua Bene 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 Ho fatto una schifezza Aspetta Aspetta Ok l'ho ripresa E l'ho ripresa E l'ho ripresa E l'ho ripresa Vai cavolo che convini Ce l'hanno rubata Ma dai Steph Che mi hai combinato Sono andato fuori traiettoria Perché stavo pensando A fargli saluti Ciao 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 Ma perché E ho sbagliato strada Dai ti devi distrarre così Eh non lo so È stata una cosa terribile Mi combina queste cose Guarda Guardalo quanto è basso Aspetta Aspetta Pum 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 Dai 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 Ferre bassissimo Ferre No Dai Ce l'avevo fatta Guarda cosa è successo Allora l'ho colpito qua E' andato bassissimo Ma l'ha lanciata Non è morto L'ha lanciata Guarda Sono andato troppo avanti La potevo acchiappare lì Dai concentriamoci Che qui perdiamo punti Solo perché ci vantiamo Su 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 Gli ho regalato Gli ho regalato un punto Sì A bomba Ferre A bomba Uno È fatta? No Aspetta è caduta È caduta È caduta È caduta Io non la posso prendere Che devo curare Presa Vai 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 Ok Scappo 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 Aia Che male che mi ha fatto Quel colpo Ok Allora Do una bella accelerata Mai visto quanto Mi blocca uno di loro? Sì Ha una spelle per rallentarmi E mi fa andare lentissimo Oltre al fatto che mi acchiappa pure Sto impazzendo Ok Bene 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 Sparo davanti a me Non so se i console hanno capito Ma ci sono delle zone dove se vieni spinto Automaticamente ti fa perdere la palla Certo 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 E quindi devi stare tutto il tempo attento a non farcelo andare Ecco qua L'hanno recuperata perché adesso hanno creato una nuova cosa Che quando arrivi alla fine automaticamente ti toglie la palla E quindi loro possono diciamo parare il tiro Sì 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 E bloccarti Però c'è la loro healer quindi non credo che durerà molto Sinceramente lo vedo messo male Lo vedo messo male Dai Fere Dai Fere che lo spacchiamo le ossa Vai 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 Mi stanno facendo da scuro umano Comunque è incredibile Sì sì assolutamente Guarda Fantastico Continua È basso È bassissimo Dai Dovete picchiarlo voi Io sono universo Ok è morto L'ho ripresa L'ho ripresa L'ho ripresa L'ho ripresa Dritto dritto Eh siamo belli lontani perché aveva fatto un po' di strada comunque Sì ha fatto tutta la strada sinceramente siamo belli lontani Ok ultimo rettilineo Spara a distanza quello così Deve pensare a scrivere anche i miei colpi Ok Sì vicino adesso vicino a te Ta A cannone Yes Bravi 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 abbiamo recuperato bene Ho dovuto imparare una nuova tecnica Fere Dato che adesso te la molla per forza Devi fare così Guardami Curvetta tiro Boom Così non la para niente nessuno Così non la para niente nessuno Si gira intorno La statua crolla 3 a 1 per noi Con due gol fatti da Steph E Fere che curava Bene così E adesso proviamo finalmente il personaggio che volevo utilizzare fin da subito Fere Dimmi Lo vedi mi hanno rubato la macchina che volevo io Eh lo so Sono stati più veloci di te Mi dispiace Steph Ma non è giusto Eh lo so capita Però impegnati e cerca di fare lo stesso una buona partita No perché non ho più la classe che prende le palle Ma ho la classe che intercetta quelli che hanno la palla Vedi però ho un bel rullo cattivo eh Mi vedi di dietro Sì ti vedo Sono abbastanza aggressivo Però mi sa che punta il nostro alleato Fere Eh mi sa mi sa Distruggi lui E pazienza per venti Guarda che partenza perfetta che ti avevo fatto Però mamma mia il tipo è un fenomeno Fere Mi sa che va bene così Mi sa che va bene così Se si vince va bene tutto Esatto Se si vince va bene tutto Allora io praticamente ho un'abilità Che mi permette Ho un'abilità che mi permette di caricare gli altri E di farli schiantare nei muri Quindi posso ad esempio prendere lui E fare così guardate Ciao È distrutto Mi ho portati a casa Deve essere bellissimo ma purtroppo non ti posso guardare Perché io devo stare attenta Ti stai perdendo delle cose bellissime Quindi devo curare tutti quelli Ti stai perdendo grandi cose Mi dispiace ste Allora mi utilizzo il turbo Ho già fatto gol Va benissimo Va benissimo Mi ha messo in panchina È molto bravo È molto bravo È lui Tranquillo salta Salta Tira Guarda come ha fatto Qua 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 E io che devo fare Vabbè Vabbè Finché così va bene Ho una macchina dorata La macchina dorata bellissima Cioè bellissima Super tamarro La ripresa lui Perfetto Boom Subito un sacco di danno a questo qui Allora mi sa che mi porta Chi mi porta a casa? Non lo so Toglimi qualcuno di dosso Dai Liler Sì Sì è una bella cosa Ecco mancato tutto Liler vanno sempre disturbati Ero indeciso su chi prendere Non ho preso nessuno Eh vabbè Bravo Così Allora vado qua in mezzo a fare danno Ok ok Ci sarò pure io Ok perfetto Guarda che bel team che siamo A chi ha poco qualcuno Ok A bomba Ho preso liler ok Gli ho fatto un sacco di danno Fa qualche combinazione per saltare tantissimo Sì 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 Non so bene come fa ma è incredibile No No la palla la palla la palla No No Correte correte Ma perché gli facci i complimenti per fare le schifezze? Eh vabbè Eh no gli sono tutti tutti addosso Però è basso eh Ragione Ragione È basso è basso è basso è basso è basso è basso Gli giriamo da qui Ok Vai 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 Ok la ripresa La ripresa Ok perfetto perfetto Gli sposto questo Via bene così Bravo Steph Gli faccio anche un sacco di danno Vorrei provare l'ultimate di questo personaggio Ce la faccio la faccio la faccio Secondo me è una figata Ce l'abbiamo fatta? Sì ce l'ha fatta ce l'ha fatta È andato dritto da solo Erano tutti morti Allora 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 questa volta ci siamo sentiti utili Perché gli abbiamo dovuto dare una mano Dato che lì in fondo aveva fatto qualche schifezza Vabbè ma io comunque Cioè Ho un support Quindi sono sempre utile a lui Sei solo tu che non sei molto utile Cioè io lo sto sempre curando Lo sto aiutando Restare nella mia stessa Mi sto dando sostegno No io sto facendo la mia parte Sei tu che pensi a smettere tutti nei muri Io sto facendo la mia parte Beh mettere la gente nei muri non è utile Vorresti insinuare questo? Più o meno Stai dicendo che il tuo lavoro è più importante del mio? Sì Decisamente Steph Però va bene anche il tuo eh Non ti preoccupare Va bene anche il tuo Sai cosa penso? Dimmi Che tu secondo me sei gelosa Perché non sapevi che di stessa Era una macchina così figa E sei gelosa che io smatto la gente nei muri L'abbiamo presa noi Ma figuriamoci Questo qua è un mostro Bravissimo Sì sicuramente gioca tantissimo Sì 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 Brava bravo Decisamente Io mi limito a fare i miei danni A portarmi a casa Un po' di danni a tutti Dar fastidio Ok Comunque una mano Ho fatto una kill Oh attenzione 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 Ho perso la palla per la stessa Kill per Steph Non è possibile Aia ma Aspetta Aspetta E Steph prende la palla Attenzione Vai 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 corri corri Diventa improvvisamente il protagonista di questa partita Guarda come deve rubare la cena L'ho ripersa Vabbè glielo ho passata Era un passaggio Sicuramente L'ho ripersa Ma che combina Ma che combina Attenzione È impazzito No di nuovo Ma dai Che sta succedendo Quali l'ha regalata tutta la vita Aspetta 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 Che ho Fere Fere Non c'è De Steph Aiutami E non lo so Loro hanno la palla E stanno lì Sì sì Aspetta Aspetta Che qua gli insegno La lezione Steph poteva essere il protagonista E hanno rovinato tutto Ok è morto Ottimo Ottimo Dai che la prendo Dai che la prendo Vai 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 Non l'ho persa Dai basta La presa Liller La presa Liller La presa Liller Vai andiamo 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 Tre punti Infatti due d'acqua Il fenomeno lì E il terzo fatto dal support Perché all'improvvisa È calato È calato di prestazioni Eh vabbè evidentemente L'hanno chiuso parecchio Non siamo riusciti a difenderlo bene Quindi ha perso la palla Però l'importante L'avrei voluto fare io Al punto Dai sì sì Ci sta Sono triste Lo volevo fare io Vediamo almeno Se sono a tre milioni i giocatori Vai 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 O se sono stato Completamente inutile Perché almeno Diciamo che così Capisco un pochettino Se ero Diciamo parte di questo gioco Eh Io migliore in cure Giusto per dire A te Vabbè Io almeno ti trovo E tocherò Sì sì Ma ci sta Non ti preoccupare Va bene Me ne ricorderò Alle prossime volte Sì sì Brava brava Complimenti In ogni caso Dai dire che ci possiamo Fermare così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto Mi dispiace Non avervi mostrato La classe che volevo utilizzare Che era quella Che stavo utilizzando Il fenomeno Perché è davvero Davvero divertente Però mi sono divertito Anche a sbattere La gente nei muri Quindi sono comunque felice Ricordatevi che ovviamente Potete scaricare il gioco Dal link che abbiamo In descrizione Dato che è gratuito Ed è su team E ricordatevi di prendere I codici che abbiamo messo Nei commenti Dato che sono disponibili Per i 5 più veloci Ci fermiamo così E buon divertimento Per ragazzi Vi saluto Sì è tutto Sentici un like Se provate che avete Il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdere i video Ciao Alla prossima Ciao ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima